Buongiorno a tutti, ciao a tutti da Francesco Nano di scuolasuono.it Oggi stiamo facendo una bella conversazione telefonica, stiamo intervistando si potrebbe dire un personaggio che nell'ambiente del recording, del mixing e dell'engineering è abbastanza famoso in Italia Sto parlando di Michele Danca, ciao Michele Ciao a tutti gli utenti di questo fantastico forum e grazie per queste belle parole insomma Beh, la fama ti precede nel senso che effettivamente possiamo anche tranquillamente dirlo io e te ci siamo conosciuti praticamente 5 minuti fa a voce abbiamo avuto qualche scambio di email in passato però diciamo la tua fama ti precede un po' perché nel mondo dell'audio italiano insomma sei abbastanza presente e così noi iniziamo questa chiacchierata, a me incuriosiscono sempre queste chiacchierate perché si va a conoscere le persone, a conoscere i personaggi e quindi non so se hai piacere ti inviterei proprio direttamente a fare una piccola presentazione a raccontarci un po' quella che è stata la tua storia dagli inizi dell'audio fino ad oggi raccontandoci quelle che sono state le tappe più simpatiche, più significative e poi andiamo avanti nella conversazione e vediamo dove andiamo a parare bene allora io come hai detto sono un disegnatore di strumenti audio per utilizzare questo termine in quanto penso che effettivamente hanno la stessa importanza degli strumenti che vengono usati per produrre musica sono strumenti musicali insomma ma io preferisco dargli questa connotazione iniziai la mia tra virgolette carriera in Italia questo termine non è appropriato è preferibile dire il mio percorso diciamo professionale già negli anni 80 come musicista ho suonato nella band dei Casino Royale fino al 94 e in quell'occasione cioè dentro quel periodo ho svolto anche il più per una questione di emancipazione della propria creatività ho iniziato a affrontare anche le problematiche dello studio quindi mi sono rapportato con la registrazione in sostanza infatti furono quelli i primi approcci con lo studio di registrazione sono stato un tecnico del suono anche se uno che lo è poi non smette mai di essere però dal punto di vista professionale fino al 2000 più o meno in cui ho svolto praticamente mansioni da tecnico del suono produttore e arrangiatore dopo infatti l'esperienza con Casino Royale ho fondato insieme a altri due soci un'azienda impegnata nell'audio e nel video in cui praticamente mi occupavo diciamo della parte tecnica e anche tra virgolette della parte artistica e per lo più impegnata nel broadcast nella realizzazione di jingles per dire servizi per la radio e per la televisione infatti composi diversi jingles negli anni 90 ho scritto parecchio per la televisione e per la radio se qualche utente magari se ne ricorda ci fu una trasmissione per la radio della RAI 2 in cui io ero l'autore dei commenti musicali la trasmissione si chiamava Dispenser andò in onda per sette anni e tra l'altro la musica era proprio aggiungeva alla trasmissione un particolare sapore insomma e quindi è stata veramente una dei dettagli delle cose che mi hanno dato più soddisfazione in assoluto. Però poi con il passare del tempo cosa succede? Succede che inizio a subire un po' la frustrazione del fatto che purtroppo per ragioni di costi, per mille ragioni insomma ma soprattutto proprio legati al costo della musica la difficoltà di farla accettare come una professione vera e propria in quanto è difficile che viene conosciuta come lavoro vero nel senso che adesso con la diffusione dei sistemi di home recording tutto un po' livellato un po' verso il basso anche se poi magari senti delle produzioni fatte da un non professionista e la mano lo senti che non è quella però insomma in sintesi succede che inizio a soffrire del fatto che non riesco a fare delle cose di livello alto insomma si tratta sempre di pubblicità si tratta sempre di sonorizzazioni di cose del genere e allora sempre l'idea di rapportarsi e dover registrare musica e comunque produrla col computer questo inizia a starmi stretto finché circa nel 2000 decido di fare una svolta epocale che poi si concretizza nel 2002-2003 quando proprio lascio la mia azienda e decido di dedicarmi alla costruzione dei dispositivi più per una sfida più per una passione mi interessava mi interessava l'elettronica cioè il come funziona tutto nasce da una serie di strane circostanze e coincidenze infatti entro in contatto con un mondo cioè quello del vintage in cui mi fa capire che praticamente le attrezzature moderne di oggi per il fatto che sono diventate più disponibili i prezzi sono abbassati però anche molto mediocre entro in contatto con diversi dispositivi costruiti dalla Neumann la Neumann è una famosa marca di microfoni che noi la conosciamo per microfoni però scopro che praticamente fino al 1992 c'era un dipartimento che si è occupato anche del pro audio l'audio professionale e quindi esistono equalizzatori, compressori, tutto quello che ha a che fare con lo studio di registrazione e inizia una forse nata ricerca, una forse nata corsa ad accapparrarsi questi dispositivi e mi rendo conto che nel mio studio hanno un impatto fortissimo perché praticamente cresce la qualità delle produzioni che faccio utilizzando in genere quasi tutto il vintage tedesco e però molti di questi dispositivi non funzionavano perché è così che funziona quando acquisti le cose online non trovando nessuno che fosse in grado di ripararli ho intrapreso questo percorso che è iniziato praticamente alla fine degli anni 90 e allora ho preso i libri e ho iniziato a studiare l'elettronica e con me praticamente creare dispositivi da quando ho iniziato a studiare a quando ho iniziato a costruire sono passati almeno 5 anni quindi mi sono fatto questi 5 anni di teoria soltanto letta sui libri tra l'altro libri dedicati all'audio cioè l'elettronica all'audio non esistono in italiano o se ne esistono sono veramente mediocre quindi hai imparato l'inglese diciamo ho dovuto studiarlo tutto in inglese però insomma sono molto più esaustivi come teste quindi di fatto insomma è stato veramente un bellissimo viaggio insomma quindi insomma tu nasci come musicista e ti evolvi dopo in un secondo momento come costruttore come riparatore come tecnico insomma si nasco come musicista barra tecnico del suono perché alla fine proprio come tecnico del suono ho fatto di più che non come musicista nel senso che al di là poi delle produzioni discografiche e che devo dire che tutte quelle con cui mi sono cimentato alla fine non sono mai andate da nessuna parte nel senso che benché avessi molti contatti con le case discografiche venivo magari contattato per produrre questo artista quel quell'ora artista quell'altro artista però poi alla fine erano tutte le produzioni che sono rimaste nel cassetto e mi resi conto che alla fin fine molte case discografiche utilizzavano questo sistema per creare delle passività magari facevano dei contratti alla boy band perché era il momento delle boy band o al gruppo grange perché era il momento del gruppo grange e poi tutto si veniva mortificato nel dimenticatoio praticamente no? infatti questa è stata una anche delle ragioni per cui ho iniziato a soffrire del fatto di dovermi confrontarmi ti spiego quando tu fai musica produci magari lavori un anno, produci un album con il sangue perché non è facile produrre un album e però tutto questo tuo lavoro che magari è stato un anno è dentro un cd allora c'è ancora il supporto adesso non c'è neanche più quello è diventato elettricità e questo al contrario oggi lavoro un anno produco chili di lavoro non so se mi spiego cioè lo vedi non ha bisogno di spiegazioni la musica invece c'è sempre qualcuno almeno per come erano le dinamiche della discografia italiana allora c'è sempre qualcuno che è messo lì da qualcun altro che era quasi sempre un incompetente per fortuna questo periodo sta finendo dai sì ormai è finito adesso c'è più libertà sì assolutamente infatti adesso non c'è proprio bisogno delle case discografiche non c'è più la casa discografica esatto no perché erano abituati a cosa a vendere un supporto il cd o il vinile o insomma conteneva quello che conteneva era un dettaglio in definitiva ecco per questa ragione non sono finite sono finite perché adesso esistono altri sistemi sono state superate da altre società vedete unse e tutti i vari derivati e quindi praticamente il loro potere e anche l'imposizione del loro prodotto è finito oggi una band se vuole fare musica deve suonare deve suonare dal vivo e con la chiusura delle case discografiche anche i tecnici del suono sono a casa insomma ma guarda però succede una cosa che effettivamente più che tecnici mi ricordo per esempio sono di milano e quindi milano fino agli anni 80 era piena di registrazioni grossi costosi tutti nati intorno alla fine degli anni 60 inizio anni 70 e allora quando la disco grecia funzionava effettivamente facevi una produzione ti compravi un banco un banco da 500 600 milioni del vecchio conio cioè stiamo parlando di cifre del genere e poi le cose naturalmente sono cambiate ma è giusto anche così è vero che ci sono chiusi queste grosse strutture tra l'altro per avere ragione sono ai costi molto grossi poi ci sono stati anche una serie di passi falsi che hanno commesso questi studi nel passaggio tra il digitale e l'analogico poi magari ne entriamo più nel dettaglio e lo spiegherò nella seconda parte quella dedicata agli utenti del corso per tecnico del suono ufficiale però è vero che sono finiti questi grossi studi di registrazione ma si sono moltiplicate le condizioni home recorder ecco vorrei farti una domanda a questo proposito l'home recording secondo te è un amico o un nemico della musica o meglio c'è molto personale specializzato a casa da una parte e dall'altra parte ci sono molte band che si approcciano al mondo del recording con un pc con una scheda audio un microfonino queste due realtà possono convivere possono anzi darsi forza oppure l'una esclude l'altra tu come come la vedi insomma questa situazione no io non ho una opinione precisa e metto o comunque non vorrei farmi porta bandiera di una opinione precisa perché tutto è talmente soggettivo cioè è chiaro che sono delle possibilità e nelle possibilità non c'è nulla di male no cioè sono contento che ci siano che si siano divulgati questi questi sistemi diciamo tra virgolette a basso costo però anche lì cioè ci possono essere setup da home recorder da poche centinaia di euro a svariate migliaia quindi cioè tutto dipende da dell'aspettativa dell'utenza insomma sono le macchine che fanno il sound o è l'uomo secondo te? faccio il provocatore apposta sono... si può ottenere in entrambe le cose nel senso che se noi facciamo un percorso storico ci accorgiamo che praticamente l'equalizzazione e il mixaggio già si otteneva con la registrazione nel senso che piazzavi il microfono magari davanti alla batteria per dire e se non funzionava la cassa non è che ti mettevi ad equalizzare spostavi il microfono finchè non trovavi la posizione giusta cioè già è proprio una questione di approccio oggi diciamo che con il digitale e questo vale sia per l'all recording che anche nelle condizioni professionali c'è un invito proprio alla manipolazione anche eccessivo tutto qua però non è una questione di media cioè è una questione proprio di approccio umano è soltanto una questione anche culturale cioè se il tecnico ha l'esperienza giusta registra con qualsiasi sistema e tira fuori del buono ho sentito registrazioni fatte in condizioni veramente ridicole ma con un certo spessore, un certo equilibrio chiaro che come tutti i mestieri anche qua gli attrezzi fanno il mastro nel senso che non puoi fare una rifinitura particolare se usiamo una metafora artigianale sono un cesellatore non è che posso avere un solo scalpello per fare delle rifiniture particolari se magari faccio il gioielliere ho bisogno di una serie di attrezzi che mi permettono sono manipolazioni anche più sofisticate bello, mi hai dato un gancio facciamo il caso di una band pop, rock una band normale, insomma, fa musica leggera che vuole iniziare a registrare per conto proprio un EP, un brano, un album secondo te per raggiungere un risultato accettabile quindi stiamo parlando non di realizzare una produzione planetaria ma una produzione anche fatta in casa anche che si senta che sia che non sia una produzione high budget che tutto sommato però può essere confrontabile che non sfigura quanto meno quali sono secondo te gli attrezzi del mestiere necessari per partire in questo tenuto conto che ovviamente una batteria per essere registrata ha bisogno di un ambiente di tanti microfoni di tanti canali però diciamo batteria a parte che metti quella si va in uno studio di registrazione e la si registra là per il resto che setup potrebbe essere un setup base secondo te se vuoi puoi entrare anche nel dettaglio con nomi di marche e modelli oppure possiamo anche fare un discorso più generale come preferisci? Io starei sul generale perché c'è talmente tanta offerta e poi in questo ambiente ogni volta che magari c'è già il fatto che io dalla mia posizione tra virgolette d'autorità dicassi questa va bene allora poi tu ti assi cercherei invece di stare sul vago perché ci sono talmente offerte ognuno può utilizzare quello che ha a disposizione quello che le società gli permettono e in qualsiasi di queste situazioni sono praticamente funzionali cioè funzionano un setup base una scheda audio un microfono addirittura anche un microfono USB come quelli che si usano adesso moderni oppure cioè tutto funziona cioè oggi ci sono delle possibilità che sono inimmaginabili rispetto a come si dice a soltanto vent'anni fa cioè se penso ai miei tempi era immaginabile farsi il disco a casa poi con la diffusione dei primi sistemi digitali l'ADAT mi ricordo che registrava sul VHS che è pessimo però allora con la coscienza che serveva allora con i sistemi che servevano allora era effettivamente cioè non produceva rumore il digitale è la cosa fantastica è quella che non produce rumore e ha uno slancio dinamico infinitamente superiore al supporto analogico e quindi ho sentito i provvini già fatti sull'ADAT che erano bellissimi funzionavano molto bene io stesso realizzai un intero album utilizzando questi sistemi digitali a nastro io mi ricordo che anziché l'ADAT io avevo per esempio feci il mio album solista con 3 di A88 della tasca che erano un pochettino più belli dell'ADAT però insomma erano terribili anche quelli dovevi 24 tracce insomma si si 24 tracce perché l'hard disk recording ancora non c'era oggi praticamente virtualmente secondo i limiti del sistema ci possono avere un numero infinito di tracce quindi questo qua rende la cosa più sensibile però per tornare a quello che stavi dicendo cioè la band quello che fa la band come se o no utilizzando sistemi del genere è possibile ottenere dei buoni risultati la mia risposta non può che essere sì certo per esempio se si fa della musica suonata la cosa più importante è la musica stessa non è tanto quanto la registri cioè è chiaro che concorre però ti posso fare moltissimi esempi di gruppi pop e rock che hanno avuto un grande successo utilizzando sistemi mediocri quindi cioè è alla fine il contenuto emotivo che ha il la musica in sé che fa la differenza però una cosa che è necessario capire anche quando si fa musica suonata è che non bisogna essere schiavi del sistema in sé cioè se noi registriamo con hard disk recording e stiamo facendo un del rock non costringiamo il batterista a seguire il metronomo cioè utilizziamo utilizziamo il metronomo stesso che è il batterista cioè è più importante che sia la band che suoni insieme che non che suoni dietro a un clock per dire questo è il senso cioè adattiamo la macchina all'essere umano e non viceversa perché quando fai il contrario cioè cerchi di adattarti alla macchina il risultato non può che essere mediocre ma dipende dal batterista però fammi dire certo e allora si continua ad andare avanti finché perché non sia il take giusto cioè tutti devono suonare insieme e poi comunque se poi è necessario aggiungere del midi o elettronica in generale è è sufficiente praticamente adattare entrando nello specifico la timeline con tutti i key point al al timing del batterista e non viceversa cioè piuttosto che fare il taglio ai cuci no come le aiuto aspetta non ti ho sentito piuttosto che fare il taglio ai cuci piuttosto che fare il taglio ai cuci piuttosto che fare il taglio ai cuci quindi fare dell'edit per esempio del batterista e mettere il colpo di cassa a tempo sulla battuta ecco è più conveniente fare il contrario cioè più conveniente adattare i tempi della della song al al batterista purché tutti suonano insieme naturalmente certo cioè è questo che ci deve essere questo nel come come tu ben sai in questo momento sto riaprendo il corso per tecnico del suono di scuola suono.it e a suo tempo quando lavoravo ancora su scuola suono.com ed era aperto erano aperte le iscrizioni ho fatto diverse interviste ad altri i tuoi colleghi nomi anche abbastanza importanti adesso non so per citarne qualcuno franchin per insomma nomi anche anche importanti nessun altro me ne voglia anche se non lo cito in questo momento e anche perché ce n'è uno che ho sulla punta della lingua non mi viene lo confesso comunque stavo dicendo che in realtà di solito è interessante vedi parlare con con le persone e confrontare i modi di lavoro perché per adesso mi è sempre capitato di sentire il contrario cioè tutti gli altri anche nomi famosi nomi importanti tecnici del suono importanti mi hanno detto che il loro metodo di lavoro invece è il contrario ovviamente adattare la batteria alla griglia del sequencer tu in questo momento mi stai dicendo il contrario e questo è molto importante secondo me perché significa che non c'è un unico modo giusto per lavorare c'è il modo che ti crei tu con l'esperienza a seconda del feeling che tu vuoi ottenere se tu vuoi avere una musica che respira ti posso fare tantissimi esempi di brani pop e song che iniziano con una velocità e ne finiscono con un'altra o addirittura dove per esempio esiste un' elasticità tra l'inciso tra la strofa e quindi tutto sempre dipende da che cosa ti ispiri tu però è entrato nella convenzione adattare il ritmo anche perché con l'utilizzo della machine è diventata questa ma questa è diventata una barriera diciamo tra virgolette convenzionale anni fa mi pare nel 2004 assistetti a un seminario portato un seminario dal cui il relatore era George Massenburg che è un noto disegnatore di strumenti high hand per lo studio di registrazione ma anche un produttore e un tecnico del suono e mi aspettavo infatti che facesse un seminario su come si costruiscono le attrezzature invece praticamente ha fatto un seminario su come si registra la musica ed è stato molto istruttivo anche perché quando sentivo parlare dicevo caspita dice esattamente le stesse cose che penso io da sempre e lui faceva sentire delle registrazioni lui è tutto un intrippato di musica folk americana quindi country music hillybilly bluegrass insomma musica folk americana e faceva sentire le sue registrazioni diceva questo qua io ho fatto tutti con il mio pro tools però ho fatto praticamente in modo che la canzone avesse il suo respiro il suo respiro naturale la band l'ho registrato dal vivo hanno suonato tutto insieme poi io ho fatto l'edit praticamente utilizzando diversi takes ma prima avevo e faceva vedere le schermate in cui praticamente costringeva sequencer a interpretare il batterista non viceversa è un sistema abbastanza complicato soprattutto tre o quattro anni fa ma oggi esistono dei programmi che ti individuano il beat ti individuano praticamente ti fanno affette insomma è molto più semplice adesso io poi non me ne occupo più direttamente quindi però insomma penso che di fatto la musica non è fatta soltanto è così anche la registrazione non è soltanto fatto di linearità di precisione anzi la natura la natura delle cose è esattamente il contrario non c'è questa questa precisione eccezione fatta per esempio per la costruzione dei cristalli come si costruiscono in natura i cristalli che sono veramente scientifici però tutto il resto la linea retta non esiste in natura non esiste una spaccatura preciso tra il come si dice il giusto e lo sbagliato è tutto molto più elastico quindi se la musica deve essere fatta di feeling e quello è praticamente se deve avere un contenuto emotivo deve già essere quello della canzone stessa se io costringo i musicisti a essere allineati a un qualche cosa di elettronico qualche cosa neanche il cuore per dire le nostre 60 pulsazioni al minuto sono così allineate a una griglia no? lo suono un pochettino di più perché l'emozione è così se io devo trasmettere l'emozione devo praticamente conservare questo cioè io divento più questo questo esatto perché questo è questo è il bello ti posso fare un esempio classico adesso mi metto a cantare per per la gioia non so celebrate the time come parara famosissimo pezzo pop no? everyone in the fire cool and again questi qua questi iniziamo con una velocità ne arrivavano con un'altra cioè questo è oppure non so quando negli anni 80 mi occupavo di hip hop e fondai i radical staff con alcuni dj piuttosto celebri ed eravamo tutti intrippati in campionamenti di dischi così cercavamo di campionare un quattro quarti di Barry White tutta tutta o non c'era verso di farlo mettere in griglia perché perché praticamente il batterista utilizzava uno spazio tra il primo e il secondo movimento diverso che dal terzo al quarto ma era lui e questo era il bello capito? cioè questo era il bello cioè se io devo fare del jazz mettila così se devo fare del jazz per fare degli esempi più comprensibili cioè costringo il batterista che sempre va in upbeat a andare dietro un sequencer è un sacrilegio è impensabile una cosa del genere e quindi ma anche nel pop è così anche nel cioè il pop che non si è esclusivamente elettronico perché si è chiaramente elettronico però anche in quel caso le batterie elettroniche tipo dell'808 la 909 che sono praticamente ormai sono diventate degli archetipi della musica pop anche quelli hanno un tiro loro che se fai andare che si sincronizzi con il sequencer della tua DAV con tutta probabilità alla trentesima battuta inizi ad andare fuori il sync cioè e questo è il bello e questa è la cosa la cosa che deve essere preservata no? è l'imperfezione che fa la bellezza cioè e che comunica emozione perché conferisce al prodotto un'emotività che altrimenti verrebbe penalizzata ecco tutto qua beh allora mi pare che abbiamo raggiunto un'ottimo un'ottima conclusione insomma per questa prima parte dell'intervista dedicata a tutti i musicisti che ci seguono ossia cercare la spontaneità la genuinità piuttosto che la perfezione tecnica nelle registrazioni esatto esatto è assolutamente così sì sì certo la spontaneità l'estemporaneità della performance allora prima di concludere questa prima parte e di dedicarci alla parte eh dedicata scusa il gioco di parole mi ripeto ai soli allievi del corso per tecnico del suono che apriremo a breve ci tenevo siccome ho tirato fuori l'elenco a dire tutti i nomi delle persone che ho già intervistato e le interviste per l'appunto si troveranno all'interno di questo corso eh ho parlato con Carlo Sferco Davide Pasci Gianluca Sanza Luca Bignardi eh Marco Trivellato non abbiamo avuto la possibilità per una serie di cose ma speriamo di recuperare Renato Campaiola eh Ruggero Pol e poi il mitico Sergio Taglioni che eh ricordo con tanto affetto e con e con simpatia che è mancato qualche mese fa e infine Tony Lappel forse c'è ancora qualcuno che mi sfugge ma in questo momento non ce l'ho sotto mano e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato queste interviste e anche a tutti gli altri che se avranno piacere di passare a donare la loro esperienza eh deciderò di accogliere dunque noi adesso nella prossima nella seconda fase parleremo di di cosa parliamo di analogico di sound di cose un po' più tecniche di un po' di carne al fuoco che ne dici? assolutamente assolutamente come vuoi va bene non ho nessun pregiudizio allora salutiamo chi ci ha ascoltato fino a questo momento e vi ricordo di continuare a seguirci su scuola suono e i corsi di scuola suono il corso per tecnico del suono l'accademia del mixaggio e tutti gli altri ciao a tutti e ciao anche dal nostro mitico ospite di oggi arrivederci arrivederci a tutti ciao